Nonno Pig si prende cura della pianta di fragole di Peppa Dopo qualche tempo, Nonno Pig vede spuntare una piantina Giorno dopo giorno, la pianta diventa sempre più grande Finché Nonno Pig trova una cosa molto speciale Le fragole! Ciao, Nonno! Siamo tornati! Peppa e Giorgio sono tornati di nuovo a giocare Nonno, Nonno! La mia pianta di fragole è cresciuta! Certo, piccola! Guardate! Ci sono le fragole! Grazie mille, nonnino! Nonno, possiamo piantare qualcos'altro oggi? Sì! Questa volta però tocca a Giorgio scegliere Va bene, scegli tu oggi, Giorgio! Scegli di piantare una carota! Nonno, senti! Credo che Giorgio voglia piantare una carota! Giorgio! Allora, hai deciso di piantare una carota? No! Allora, che cosa ti piacerebbe piantare? Giorgio sta cercando di piantare qualcosa Dinosauro! Vuole far crescere un albero di dinosauri! Che sciocchino che sei, Giorgio! I dinosauri non crescono sugli alberi! Pinnosauro! Peppa Pig 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 Peppa Pig